Good morning guys! Questo è un velocissimo spin-off che non era previsto in realtà io facessi dedicato all'inconveniente che mi è capitato durante lo sporty meeting Ora si sugo a caffè e poi si parte Tutta colpa di questo stronzo qui che ha rotto la chiave qui dentro nel farmonovale con noi Avendola qua con lo stinco ho piegato la chiave Bene ora me l'hanno tolto loro come avete visto Ha ragione, ha ragione, non mi positivo di nulla Me l'hanno tolto a Grazzano, grazie mille mi hanno aiutato E ora con i mezzi del mestiere ovvero un pezzo di spago e del biadesivo Perché ora il mio naso telato è qui dentro, non so dove sia Devo ricollegare i due occhiellini e così facciamo ripartire noise Il problema è che una volta che ho collegato gli occhiellini la moto si accende Non va in moto ma si accende il quadro e ho tipo tre minuti per vestirmi e partire Altrimenti brucio la centralina e la bobina molto probabilmente Quindi devo fare molto ma molto in fretta Quindi direi che la giacca la metto sin da subito Cominciamo a sperare di non far casino La reparazione è molto alla bella e meglio Mi vesto e si parte Ed eccoci di ancora la strada E purtroppo ho scoperto una cosa che non so se è normale o è spiacevole Questo me lo saprà dire Chris Mentre venivo giù con lo stesso crocco Tutte quante le spiega e il contachilometri funzionavano Ora non funziona nulla, non mi segna nemmeno la velocità E le uniche spiega che funzionano sono quelle della folle e degli abbaglianti Cioè ragazzi non so cosa pensare di questa cosa sinceramente Ho le gambe che mi fanno noise 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 dalla paura Porco mondo In questo caso senza fasciarsi la testa prima del dovuto Direi che è caso di buttarsi giù e andare da Chris Come si è scomposta ragazzi Ma è in manpestata Due ruote staccate da terra Porca miseria non mi era mai successo Eh si è incazzata, lo so che si è incazzata Ma è in manpestata se si è incazzata E siccome non voglio farti incazzare noise Siamo arrivati da Chris Il mio dottore, guru, stregone Tutto, tutto Chris Andiamo giù vai Ma non posso spegnere noise C'hai una forbice o qualcosa? Perché non la posso spegner se non brucio la bobina Gentilissimo Ok ora sono separati Questa la rendo Buona, Chris grazie Ci si becca per la settimana Ok noise lasciata da Chris come avete visto Ora aspetto qui E nella seconda parte del video Probabilmente vi darò una news Su una cosa che è modificata a noise Perché abbiamo ragionato con Chris in questo momento Vabbè ci vediamo noi fra una settimana qua Ciao ragazzi Ciao Via, via, via Allora Non è passata una settimana Ma bensì due E siamo di nuovo In casa Chris Siamo di nuovo da Chris Ciao bell'omo Ciao Come stai? Me la faccio più Chris Senza moto Che bella Guarda che figata Firenze Motorcycle Bella Bella, bella Eccola Eccola Bella Pago E ci vediamo in moto ragazzi Ciao Chris Ciao Ed eccoci in sella Abbiate pazienza se non ho acceso subito la telecamera Ma ho voluto prendere qualche chilometro Per rendermi conto e prendere confidenza Con questi nuovi freni Che la prima sensazione che mi piace tantissimo È della leva che tira sin da subito Perché prima avevo tutte quante le guarnizioni praticamente finite E per poter frenare a fondo dovevo quasi quasi arrivare a fine corsa con la leva del freno E ora quando inizio a frenare non c'è più quell'attimo vuoto di incertezza Quell'ag nell'azione della pinza freno Come tocco la leva freno per frenare subito la pinza si mette in azione per mordere il disco freno E inizia effettivamente a frenare all'istante Questo mi fa sentire molto più sicuro E mi fa sentire le chiappe meno strette Quando sono in moto Ottima cosa Eh già ragazzi Perché l'impianto frenante è uno di quegli aspetti delle nostre motociclette Soprattutto sui nostri sporti Di cui bisogna avere molta ma molta cura E laddove è possibile come ho fatto in questo caso io Andare a migliorarlo E questo pensiero l'ho fatto mio dopo tantissimi chilometri fatti insieme a Nois Ma con il senno di poi è una modifica che farei subito come prima cosa Eh già ragazzi Perché la prima cosa che si pensa quando si prende la nostra Harley Davidson per la prima volta in mano È come spendere soldi per migliorare esteticamente Per renderla più simile a noi Però dopo 5 anni di esperienza in sella a Nois E dopo tanti chilometri fatti come ben sapete Mi sento di consigliarvi di spendere i vostri primi soldi Per migliorare uno le sospensioni Perché sapete bene essere un punto molto debole Ma soprattutto per migliorare il vostro impianto frenante Che è un altro aspetto ahimè molto debole delle nostre moto Ed eccolo qui il disco flottante che io ho montato su Nois Anche molto bello a vedersi con la parte interna così nera Veramente molto bello Il disco flottante si chiama così perché non è un disco fermo Ma è un disco che nella sua sede ha la possibilità di potersi muovere un pochino Ovviamente qualcosa di millesimale Questo permette di andare a neutralizzare il movimento delle pastiglie in fase di frenata Perché quando voi andate a pinzare in fase di frenata molto violenta o anche più leggera Le pastiglie non sono ferme Tendono un pochino a oscillare E se il disco è flottante quindi si muove Tende a seguire il movimento delle pastiglie E avremo una frenata sempre costante E quindi siamo molto più sicuri da questo punto di vista E il consiglio più grande che mi sento di darvi è di non spendere Ma di investire subito i soldi sul vostro impianto frenante Principalmente quello anteriore perché è quello che più utilizzate durante le fasi di frenate importanti Quello posteriore vi serve solamente per correggere l'angolo di curva Tendenzialmente ovviamente Quando vi accingerete a fare questo cambio Non cambiate solamente il freno disco e quindi metterne uno flottante Ma fate un tris di cambiamenti molto importanti Insieme al disco flottante cambiare anche il cavo del freno e metterne uno in treccia Il tubo in treccia perché rispetto a quello originale non ha cali di pressione Quindi l'erogazione di potenza in fase di frenata è sempre costante Cosa molto importante E una volta messo il cavo in treccia e il disco flottante Andrei anche a cambiare le pastiglie In questo caso Chris abbiamo montato delle pastiglie più performanti Qua sotto in descrizione vi metto il link per poterle acquistare O quantomeno per poterle vedere Il tutto insieme è una combo perfetta Precedentemente con il disco originale Chris mi mise già queste pastiglie Ma dopo poco tempo io tornai a quelle originali Ma per un semplice fatto Erano pastiglie sì performanti Ma troppo performanti rispetto al disco freno che io avevo montato Che era quello originale E quindi cosa succedeva? Che sul disco freno io mi andavo a trovare tantissimi righi neri E dopo 6.000 km ancora le pastiglie tendevano a fischiare E fischiavano veramente tanto Ogni volta che frenavo Quindi era un qualcosa di troppo potente con il disco freno Attualmente invece con le pastiglie freno nuove e il disco nuovo Non ci sono strisciate nere e non c'è nemmeno un fischio Il tutto perché? Perché è un tutto performante che funziona bene insieme In sostanza ragazzi investitessi sull'estetica della moto Perché è la parte più bella nell'avere un Harley Davidson Potersela personalizzare come più ci piace Ma come prima cosa personalizzate Migliorate la sicurezza del vostro mezzo Perché ragazzi in moto noi siamo un proiettile E quando cadiamo ci facciamo molto male E un impianto frenante all'altezza della situazione Ci può veramente salvare le chiappe Non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale E di cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati Ciao ragazzi